Ancora, ancora, Re Nesto, Re Nesto, Re Nesto, Re Nesto, Re Nesto. Volevo ringraziare una persona speciale, il man DJ Afghan che ci ha organizzato questa serata, questo evento e ci ha fatto anche da fonico, quindi se avete sentito male la colpa è sua, no non è vero, io sentivo benissimo da qua, allora vi facciamo questo ultimo brano anche perché poi non ne abbiamo più, quindi è l'ultimo per forza, se poi vi volete portare a casa un ricordo della serata e riascoltare le canzoni che avete sentito stasera, lì ci riesco al banchetto che vi impezza un po', andateci per tempo perché non so se vi basta mezz'ora per prendere un cd, a quanti è capitato di fare a metà con qualcuno di qualcosa, non lo so, di qualsiasi cosa, una fitta di prosciutto, una carota, un arancia, un chicco di riso, la carta di credito, un materasso, una vita intera, ecco questa è dedicata a tutti quelli che decidono di fare a metà. Da che facciamo a metà di questi sabato sera arruffati? da che facciamo a metà di un piatto vuoto e una sigaretta, di un'altra volta, di un vaffanculo ed un fiore? da che facciamo a metà delle promesse fatte per noia? dei tuoi silenzioni, delle ragioni, e che facciamo a metà del mondo sporco da imbiancare, delle cadute, delle uscite di scena, le ombre tra le mani, che mi sporcano e corrono via, le ombre tra le mani, che sono tante e non fanno rumore, le ombre tra le mani. da che facciamo a metà delle vacanze venute male? del primo amore di un'opinione, di un'altra storia, di un americano in riva al lago? da che facciamo a metà, da che facciamo a metà, le ombre tra le mani, che mi sporcano e corrono via, da che facciamo a metà, le ombre tra le mani, che mi sporcano e corrono via, che mi sporcano e corrono via, le ombre tra le mani, che mi sporcano e corrono via, Mi confondono E si spingono con il sole Da che facciamo metà Grazie raga Grazie di essere in te, di aver partecipato Davvero, è stato davvero emozionante per me Grazie